Hola gamers e benvenuti in questo nuovo video, sono Andy Gamer Oggi sono tornato dopo tanto tempo, ho cambiato il pc E volevo fare questa reaction a questo video che ho trovato adesso praticamente Si chiama The Salvage, è una videocassetta Non è vero, non è una videocassetta però è resa come una videocassetta E su un videogioco horror che si chiama Five Nights at Freddy's Poi nel caso vi spiegherò meglio dopo Vorrei iniziare perchè sono molto curioso Ora iniziamo, abilitiamo anche i sottotitoli Così se non sentite bene qualcosa Ci sono le scritte e poi ve lo traduco io comunque Inizia come una normale videocassetta quando tu la metti La riprendi Ok, è questo thing on? Ricordato Ok Quindi, il boss vuole che mi veniva in un po' later than usual To do some after hours salvaging on the older animatronics Since we're opening a new location sometime in June of next year Essentially we're going to see if we can reuse as many parts as we can Then it'll go on to be used for the newer models I'm fairly new to all this to be honest So I'm not quite exactly sure what to expect going into this room here But Bob told me when he went to go to the hands and the mouth That it's really nothing more than just a few audio Bob credo sia il capo Bob credo sia il capo So hoping I'm getting a sim I hope I'll get a simile experience coming into this But I'm not entirely sure of that So boss said to record me doing it as well For archive purposes Also to have some proof that actually Ah, praticamente il capo gli ha detto di registrare questa videocassetta Così da avere un archivio Praticamente avere anche delle prove Credo nel caso succedesse qualcosa Non aprire la porta Ti prego Veramente non aprire la porta Non ti conviene Come Su quel cartello c'è scritto Se entri muori Già è buio Non è una buona cosa Non accendere la luce Non voglio vedere cosa ci sta Per favore fallo per me Ah infatti è Jesus Gesù Mi sa che sta Sta per svenire Sta qua Ok Ok Non f*** F*** Ok 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 Praticamente sta cercando le luci Se è tutto al buio Magari se le accendevi con la porta aperta Se magari non si fosse chiuso da sola Perché credo si sia chiuso da sola Magari la situa sarebbe stata la più comoda Dovrebbero essere nelle vicinanze Magari Madonna mia Jesus Oh F*** Oh F*** mi Allora Allora Questo è un robot Del gioco Five Nights at Freddy's 2 Però non il primo Five Nights at Freddy's 2 E Wither Chica Praticamente l'avrete già notato Ma questo è un pollo Un po' Un po' rovinato Per il tempo Poi ci sono Montato nei sottotitoli Queste Queste Underscore Credo per Perché ci sono delle parolacce Meglio che Meglio così sinceramente Ma continuiamo Ma è già questa faccia In cui tanto Mi è venuto un colpo Appena Appena l'ho vista Allora 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 Tutto è set up Ah infatti Ha detto Almeno È tutto È tutto già pronto È già Ti credo Fidati Allora 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 Un registratore E qua Allora Non ho capito Cosa Allora 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 Che brutto Madonna Sì 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 Manutenzione Manutenzione Sì Sì L'acceso Sta salendo l'ansia Tres I don't know I don't really know I don't really know You must complete the maintenance checklist It doesn't During this testing phase Check on the animatronic frequently If you feel that it is becoming unstable Use the taser provided to you I'm taser Sembra Interessant Interessant Non è frega molto Cosa è che cosa? Quella palla No, 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 no Ma cosa sono questi giorni qui? 90 gradi già No, sta a vedere che alza per l'altra La stessa cosa dell'altro braccio Ma in posizione crocifissa, che brutto Ha cambiato l'audio Ancora più paura, stranissimo Niente, si è mosso quella volta, che paura Non ti prego non alzare la foto Lo sta guardando Allora qualcosa si è mosso Dopo però Dopo che ha messo yes Si è mosso No, 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 no Non alzarti più, non alzarti più Madonna Che paura Si Raga Io ero praticamente addosso Mi so c***o sotto Oh mamma mia Oh mamma mia Che brutto Non sto sudando Come se prima già non stessi sudando Però adesso di più Ma no Ok Allora Allora I guess the hips move too Um I don't I don't really know Whatever One The hips move on that one Cosa delle rane? Che cos'ha? Oh f***o Documento risultati Ok, niente 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 Son of a b***h, non ti mu- L'ha detto Figlio di Niente su questo Un altro Inizio Comparato audio 3 2 1 Bruttissimo Ma perché ho fatto questo video? Se lo fa con c***o Me ne sto pentendo I Si Ok, niente Un altro No Un'altra Mi d***o Mi d***o devo tenere gli occhi questo coso migliorno stupendo le orecchie documento risultati non alzare la testa non alzare la testa si sta muovendo stava prendendo la bocca ora lo mangio ora lo mangio sicuro non c'ho più gli occhi no 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 c'è gli occhi bianchi l'audio è tutto da cazzo 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 se ne sono andati gli occhi se ne sono andati gli occhi se ne sono andati gli occhi è diventato cieco poi una domanda ma gli occhi se ne sono andati sotto dove sono finiti? in gola? se sei ingoiato gli occhi ma che cazzo no 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 so già come andrà a finire sta cosa no no sparito non c'è più magicamente sei volatilizzato così puff non c'è più Cioè non è nulla Cosa è stato? Where the fuck did it go? What the fuck is that? No 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 Ho messo in pausa E stava dietro E cosa? Terrificante questa cosa Mi sono messo in pausa comunque Un momento sbagliato Per questo video Basta veramente così Noi ci vediamo alla prossima Mi sono spaventato abbastanza Quindi Noi ci vediamo al prossimo video Ciao raga